Carlo scusa, io però non è che la mangio così per golosità, è una specie di autopsia gastronomica. Allora dimmi, questa anguilla cos'era? Grande, piccola? È quella che noi chiamiamo il pasciutto, che vuol dire che non è adulta, quindi è molto tenera, è morbidissima, molto buona in questo periodo. È vero, mantiene diciamo il sapore qui della valle, ma sgrassato. Ma l'anguilla si può fare anche in umido. Ma che bello, ecco qua però non si sgrassa mica tanto l'anguilla. No, qui l'anguilla mantiene intatti tutte le sue possibilità e tutti i suoi grazi. E nelle valli non ci sono solo anguille. Questa cos'è invece? La passera, il simbolo di Comacchio. Oh, la passera, il simbolo di Comacchio, forse a causa di questo nome sottilmente allusivo. È un pesce di mare questo o di... Di valle. Quindi è un pesce salmattro anche lui. Ma che buono! I gamberetti di valle e i sardoni che entrano nella valle. Il tutto fritto. Io... Mangio tutto. Il tutto fritto. Grazie per la visione!